E siamo live, siamo live con la puntata numero 67, ma secondo me Guido mi prende in giro perché non usciamo più dalla 60 e qualcosa. Guido, siamo alla 67, ma sei sicuro? Siamo alla 67, confermo, sì. Lo giuri? Per lo meno, a meno che non ci siamo rincoglioniti insieme, sia io che Margherita, siamo alla puntata 67. Che non è da escludere, eh. Non è da escludere, non è da escludere e i precedenti giocano al nostro sfavore, tra l'altro, quindi è possibilissimo. Abbiamo già fatto una puntata back to the future, non è che le possiamo fare tutte le future. Esatto, quindi, no, beh, stasera puntata numero 67, puntata bella croccantella stasera perché l'argomento è di quelli che generano sempre un'ampia discussione. Quindi, intanto salutiamo tutti quelli che sono già collegati con noi e li invitiamo a partecipare a questa discussione stasera più che mai, perché stasera l'opinione di tutti conta, visto che comunque parliamo di opinioni e critica e di dove è il confine tra queste due cose. Quindi, ci teniamo a sapere come la pensate su questo argomento, quindi mi raccomando fatecelo sapere. Oppure no, dipende da quello che dirò stasera. No, ci teniamo a sapere come la pensano. Poi magari non la pensano come te, non la pensano come me, ognuno ha la sua opinione. Opinione, poi sulla validità delle varie opinioni, ognuno è giusto che abbia un'opinione, poi sulla validità e il peso delle varie opinioni, ovviamente entrano in gioco un sacco di fattori, ma non voglio spoilerare nulla, quindi Mario ti lascio completo spazio, vai. Ma prima, prima di tutto, dobbiamo fare un annuncio tecnico che è richiesto, un annuncio tecnico, un annuncio commerciale, non è un annuncio tecnico, detto tecnico, ma intendevo commerciale, che come avevamo detto e dirgli in anteprima a chi ci segue sul canale, da domani, ma in realtà già da stasera per chi ne volesse approfittare, abbiamo avviato un'altra piccola iniziativa in occasione del nostro decimo anniversario riguardante gli abbonamenti VIP, per cui da stasera, poi per tutto il weekend, potete rinnovare per tre anni l'elaboramento VIP pagandolo due anni. Mi ho fatto questa marchettata di servizio, non le facciamo di frequente, però visto il periodo storico... Io scusate, scompaio un attimo, Slido, vi lascio con Guido. Il più classico dei tre per due. Te stai assiderando, io mi sto sciogliendo dal caldo, quindi dobbiamo trovare un compromesso. No, perché ho il climatizzatore che fa le bizze da qualche tempo, e quindi va o a meno mille o non va. Quindi dopo un po' qui cominciano ad apparire i pinguini e... Io non ho il condizionatore, la finestra lontana e una luce sparata in faccia, quindi stai meglio te. Comunque mi stava facendo ridere molto Nick, perché abbiamo avuto uno scambio di messaggi riguardo ad altri argomenti, è impossibile pensarla come Mario se la pensi diversamente sbagli, come diceva quel tale, ci sono due modi di vederla, come la vedo io, oppure quella sbagliata. Quindi proseguiamo con la puntata. Bene, con questa ottima premessa vai Mario. Allora, stasera mi sono quasi preparato, nel senso che volevo partire questa... Cioè quando Guido mi ha detto, guarda che è passata sta puntata, è spinosette, è luglio, è caldo, sei nervoso, stai calmo, non facciamo partire il mega flame, ho detto partirò con un... Con, diciamo, leggendo dalla Tercani, Tercani online nello specifico, le definizioni di opinione e di critica. Così partiamo così molto alti stasera, no? Allora, opinione, dal latino opinio, opinionis, concetto che una o più persone si formano riguardo a particolari fatti, fenomeni, manifestazioni, quando, mancando un criterio di certezza assoluta per giudicare della loro natura, o delle loro cause, delle loro qualità, eccetera, eccetera, si propone un'interpretazione personale che si ritiene esatta e a cui si dà perciò il proprio assenso, ammettendo tuttavia la possibilità di ingannarsi nel giudicarla tale. E poi continua con tutte le casistiche di opinione. Mentre riguarda critica, che non deriva dal latino, ma deriva dal tanto amato greco di Nicola, critiche tecne, ovvero arte del giudicare, femminile sostantivato dell'aggettivo criticos, eccetera, eccetera, facoltà intellettuale che rende capaci di esaminare e valutare gli uomini nel loro operato il risultato o i risultati delle loro attività per scegliere, selezionare e distinguere il vero dal falso, il certo dal probabile, il bello dal meno bello o dal brutto, il buono dal cattivo o dal meno buono, eccetera, avere capacità di critica, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che già a livello di definizione, opinione e critica non sono la stessa cosa. Nel senso che quando si esprime un'opinione, si è certi della propria opinione, altrimenti sarebbe stupido esprimere un'opinione di cui non si accontezza, ma si dovrebbe essere consapevoli del fatto che la propria opinione si basa su una probabilità che l'opinione stessa sia corretta, su una serie di informazioni che abbiamo collezionato che ci permettono di formulare quell'opinione, mantenendo però ferma la barra e il timone sulla direzione del è possibile che la mia opinione sia non esatta, non corretta, non totalmente vera. Mentre quando si esercita una critica, l'arte della critica, si dovrebbe esercitarla al fine di distinguere dove è il vero e dove è il non vero, dove è il giusto e dove è lo sbagliato, dove è il bello e il meno bello, eccetera, eccetera. Quindi, dov'è che mettiamo il confine? Direi che il confine è nella definizione stessa i due termini, è per come sono stati pensati i due termini. Il diritto di opinione è un diritto sacrosanto, un diritto sostanzialmente costituzionale, la libertà di opinione, la libertà di espressione, la libertà di formulare un proprio pensiero, perché la mente umana è estremamente limitata e non può avere contezza e certezza di ogni cosa scibile e ovviamente però si può ed è legittimo avere un'opinione su tanti argomenti. Io non sono di quelli che dice eh basta, non è che si deve avere per forza un'opinione su tutto. Lo trovo limitativo perché la mente umana è una mente personatura curiosa, una mente che va alla caccia, all'esplorazione di ciò che non conosce, è una mente che vive di stimoli e di curiosità e quindi nell'andare a ricercare, nell'andare a cercare di capire, nell'informarsi, nel tenersi aggiornati non ci vedo niente di male, non solo, lo vedo proprio ideotico a un automiglioramento. E nel fare questo inevitabilmente sugli argomenti in cui si viene in contatto si va a crearsi un'opinione. Io non seguo il calcio, non mi interesso di calcio, posso avere un'opinione sul calcio e sono sicuro che la mia opinione sul calcio non è un'opinione che rappresenta il vero in senso assoluto, ma rappresenta l'idea che io, sulla base delle mie conoscenze, mi sono fatto del calcio. Detto questo, non necessariamente sono tenuto o legittimato ad esprimere in tutti i contesti e di imporre in tutti i contesti la mia opinione. Quindi avere un'opinione, dal mio punto di vista, per mia opinione, è sempre una buona cosa, perché denota una persona, denota un'attitudine mentale nell'interrogarsi, nell'incuriosirsi, nel cercare di avere risposta a domande, a dubbi, a incertezze e relazionarsi a cose che sono anche distanti o diverse da noi nel nostro quotidiano, nel nostro ordinario. Di contro, l'opinione va anche saputa gestire, cioè formarsi un'idea, formarsi un'opinione su un argomento non significa automaticamente essere esperti in quell'argomento, non significa avere piena conoscenza, piena consapevolezza, piena profondità di quell'argomento e non significa essere necessariamente la parte giusta con la propria opinione, cosa che invece sembra sfuggire a chi dell'opinione fa il suo paramestiere o mestiere o vive di pure opinioni. Diversa è la critica, la critica per sua definizione deve, è l'atto, la tecnica, l'arte di andare a discernere, a distinguere, dice la Treccani, il vero dallo sbagliato, ma al di là del vero sbagliato che sono anche concetti molto assoluti e spesso non c'è una verità precisa, esatta, univoca, ma la verità è un processo di approssimazione che va avanti, tolte ovviamente le scienze esatte e quindi insomma in tutti quei casi in cui 2 più 2 fa sempre 4 2 più 2 farà sempre 4, ma in tanti altri casi una verità è spesso un processo di iterazione e di approssimazione. Detto questo, però l'esercizio dell'arte e la critica deve basarsi su una consapevolezza che non può essere puramente opinionistica, deve basarsi su fatti, su scienza, su ricerca, su fonti, su percorsi di apprendimento e sull'utilizzo di queste tecniche per porre appunto un confine fra ciò che è meramente opinione ed opinabile e ciò che è effettivamente un fatto concreto riscontrabile in quel determinato ambito. Ecco, secondo me il grosso problema è che un tempo i palazzi della critica, gli ambienti in cui normalmente si svolgeva la critica, lo studio della critica e l'analisi critica e gli ambienti in cui si andava per scambiarci opinioni erano ambienti fisici, erano proprio luoghi, quindi c'erano le università, i laboratori di ricerca, i simposi classici, i salotti culturali, i cineforum, cioè ambienti dove ci si doveva calare anche in una dimensione culturale specifica e le persone deputate ad un'analisi critica erano persone ben individuate, riconosciute, con un titolo constatabile, eccetera, eccetera. Direi che poi il titolo non necessariamente rappresenti l'onniconoscenza di quella persona né necessariamente la qualità della sua capacità critica che deve essere a sua volta messa in discussione. Mentre magari al bar ci si scambiava l'opinione, alla circoscrizione politica l'opinione, sotto casa con gli amici l'opinione, eccetera. Con l'avvento di internet questi luoghi sono diventati meno rilevanti e il grande calderone dei social network e della condivisione in rete ha livellato completamente il rapporto uno a uno e uno a molti fra le persone. Quindi sostanzialmente ha dato voce indistintamente e in modo totalmente equivalente a ogni persona su ogni argomento. In questo modo chiunque può esprimere la sua opinione e arrivare a milioni se non decine di milioni di persone e al tempo stesso non c'è un modo in cui il confronto avvenga secondo delle regole di confronto. Quindi l'opinione del massimo esperto che ne so di virus italiano è messa proprio anche a livello tecnico grafico materiale allo stesso livello della persona che nella sua vita si occupa di la più importante fabbrica del mondo di calzini e sui virus parlano e discutono alla pari come se il confronto e le opinioni reciproche avessero lo stesso peso quando da una parte magari c'è un esercizio critico c'è uno studio c'è una consapevolezza e dall'altra c'è una serie di informazioni senza strumenti non ordinate che hanno permesso alla persona di formarsi un'opinione. Questa cosa io la trovo veramente il peggior male dell'internet moderno ovvero per quanto io sia profondamente orientata al futuro e al digitale e soprattutto alla distribuzione organica e garantita della connettività come strumento principe di acquisizione di informazioni e anche di accesso a opportunità di lavoro formazione autoformazione eccetera per la popolazione la dico meglio io riconoscerei a livello di diritto costituzionale l'accesso a internet a ogni persona e a mio avviso internet dovrebbe essere gratuito per l'intero l'intera popolazione al pari dei raggi solari perché è il più grande strumento di conoscenza il più grande strumento di distribuzione di cultura e informazione cioè è quello che è stato la televisione nei primi anni della televisione che ha permesso ad esempio l'unificazione dei linguaggi far raggiungere una forma di paralfabetizzazione in paesi dove l'analfabetizzazione era ancora principe eccetera al cubo sotto steroidi quindi è quello che è stata la televisione quando la televisione aveva anche uno scopo educativo e culturale di connessione del mondo sotto steroidi perché permette una partecipazione interattiva tuttavia questo essere estremamente open source della rete cioè veramente chiunque può contribuire con la sua opinione ha creato anche un grandissimo caos una grandissima difficoltà da parte delle persone nel riconoscere identificare chi effettivamente stia parlando chi ha il titolo per dire cosa che titolo lo dice come questa grande confusione fa sì che poi l'informazione che deriva e la divulgazione che deriva da questo modo di fare informazione è tante volte molto tossica molto preoccupante molto pericolosa in ogni ambito della società della cultura umana perché ovviamente ci sono cose in cui l'opinionismo sfrenato è spesso basato su ben poco più che un sentito dire può causare dei danni letali vedete appunto tutto il movimento Novax vedete tutto quello che si può ingenerare grazie alla cultura dell'odio la cultura delle X fobie dove X ci potete mettere quello che volete davanti perché tramite opinioni approssimative idee approssimative fake news argomentazioni spesso inconsistenti si va a confutare il processo critico il processo scientifico perché appunto non c'è distinguo la persona informata pesa tanto quanto la persona che in realtà ha dedicato magari vent'anni a studiare quel singolo argomento di cui sa tutto di cui ha diciamo fatto un'ampia panoramica e ma anche un elevato approfondimento un'elevata verticalizzazione sull'informazione e a questo punto come si fa si fa che non si fa purtroppo questo è un grande casino è un casino su cui i governi si stanno interrogando le autori si stanno interrogando perché purtroppo quello che ha messo in evidenza il sistema del il social dilemma ah vi ho mai consigliato di guardare The Social Dilemma su Netflix mi sembra di no ma nel caso guardate The Social Dilemma su Netflix è un dilemma veramente grande è un dilemma veramente preoccupante a cui io personalmente non ho una risposta ma di cui nel mio piccolo nel mio settore nel mio lavoro percepisco un grave disagio e il nostro lavoro è il mondo dell'intrattenimento quindi sostanzialmente del divertimento ovvero tutto sommato se di danni si può parlare si può parlare di danni economici nei confronti dell'impresa non di danni per la collettività per l'umanità o per il progresso dell'umanità stessa sono danni relativi a un settore industriale però l'opinionismo sfrenato causa una quantità di piccoli danni a ogni livello della società che neanche ci si può immaginare perché purtroppo quando una persona dedica tantissimo tempo investe gran parte della sua vita gran parte della sua formazione gran parte del suo tempo libero a curare e a comprendere i meccanismi che stanno dietro a una qualunque cosa dell'attività umana che sia un prodotto che sia un servizio che sia un'iniziativa no profit che sia un partito politico che sia una ricerca scientifica e si trova di fronte all'uomo armato di opinioni molto spesso le sue opinioni sono così più abbordabili così più semplicistiche così più rozze che sono molto più condivisibili e assimilabili per quanto magari false o falsate in parte e quindi spesso l'uomo con l'opinione si trascina al suo seguito una folla di festanti urlatori che sostengono l'opinione semplicemente perché è più accessibile più comprensibile proprio perché non richiede quell'elevato tasso di approfondimento che invece ha richiesto la persona formata quindi è molto più semplice andare dietro a una corrente di pensiero che ti richiede uno sforzo di comprensione di approfondimento minimo proprio perché richiede uno sforzo di approfondimento minimo e anche quando è vestita di una parvenza di approfondimento e utilizza qualche parolone e magari ha una sorta di autorità auto auto celebrativa autoreferenziale può ingannare può dare l'idea che quella persona sia effettivamente sullo stesso piano di un'altra che non ha fatto altro che nella vita che stilare l'alfabeto la tavola periodica di quell'argomento a centimetro per centimetro questo che cosa vuol dire che chiunque dedichi la sua vita a studiare un argomento approfondire un argomento esercitarlo perché poi non si parla sulle teorie magari è un ottimo falegnano una persona che ha dedicato 40 anni la sua vita a trattare il legno ne saprà più di me di legno anche perché io il legno compro i mobili all'ikea che non è neanche legno quindi il legno lo vedo nei boschi e non li so neanche distingue questo è un castagno e questo è un asce e lo faccio interessante però il fatto è che dietro c'è una conoscenza allora chiunque a conoscenza è automaticamente un esperto automaticamente nel giusto automaticamente nel vero assolutamente no cioè ci sono centinaia di medici che trattano il problema del della rottura del menisco ma magari ci saranno 30 più bravi degli altri 70 questo fa parte del genere umano non siamo tutti uguali non apprendiamo tutte le cose nello stesso modo non arriviamo tutti allo stesso livello evolutivo non arriviamo tutti a padroneggiare lo stesso argomento nello stesso modo però è indubbio che ci sia e questa cosa mi sembra così ovvia che è incredibile che a volte si debba arrivare a spiegarla è indubbio che una persona che ha dedicato 10, 15, 20 anni della sua vita 7, 8, 9 ore al giorno a un argomento ne sappia di più di una persona che ha praticato la stessa cosa per magari due o tre anni nel tempo libero quando poteva poi non è detto che quello che ha studiato per 10 anni quell'argomento l'abbia capito e l'abbia approfondito ma magari se non è completamente fuori dal mondo e non ha problemi di apprendimento incredibili probabilmente ha metabolizzato e approfondito certe tematiche e certe dinamiche che lo rendono un po' più consapevole un po' più vicino al vero di cui il concetto di critica della persona che ha borracciato ha improvvisato e è andato avanti per puro empirismo in un determinato argomento ora io sto prendendo lezioni faccio un esempio pratico lezioni subacquea da un istruttore che festeggia a breve un bel po' di anni ciao Maurizio e Maurizio è una persona che ha passato si può dire una quantità di ore sott'acqua quasi equivalente alle ore che io ho passato sopra l'acqua fuori dall'acqua la mia opinione su un'immersione non può valere quanto la sua perché non ho il suo bagaglio di esperienza non ho la sua formazione teorica non ho la sua formazione pratica e il fatto che io ora molto spesso con frequenza faccio immersioni e magari le possa fare uno o due in più solo perché ho molti anni in meno non mi rende automaticamente nel giro di due o tre anni un grande esperto di subacquea non mi rende in grado di scrivere di subacquea ad alti livelli e pretendere di avere ragione e non mi permette di andare sul suo stesso piano e di controbattere tantissimi anni di esperienza tantissimi anni di esercizi sul campo di esperienze vissute di storie di aneddoti di incidenti di problematiche che ha dovuto risolvere quest'altra persona questa cosa perché va capita non perché io non posso domani aprirmi il blog Mario il subacquo come diceva Vulvia di Guzzanti e parlare a mio modo di subacquea ma devo essere consapevole che nel momento in cui apri Mario il subacquo punto com ne parlerò con la consapevolezza di uno che è un paio d'anni che fa subacquea e che non deve avere la pretesa di conoscere perfettamente che cosa ci sta dietro ogni aspetto della subacquea certo posso continuare a coltivare ma prima di avere un'autorità e una referenzialità sufficiente a parlare di ciò questa mi deve essere riconosciuta e attestata da chi ha le mie medesime competenze cioè scusate da chi ha competenze superiori o uguali alle mie non posso auto impormela non posso semplicemente dire ho fatto questa cosa per abbastanza tempo e quindi ne so quanto te o più di te perché non è un metro sensato e nell'affrontare un argomento un'opinione o una critica è necessario che si stabilisca dov'è il peso dell'opinione e dov'è il peso della critica e bisogna stabilire dove sta il baricentro della verità in modo a capire che ci si allontana molto e che ci si avvicina molto non si può andare soltanto per simpatia per l'opinione più facile per chi urla di più chi urla di meno chi ha detto la cosa più simpatica chi ha usato il termine che mi suona più familiare quindi va bene secondo me il grave problema è che si è persa già nel sistema scolastico da tanti anni ormai la capacità di stimolare il senso critico cioè la capacità di infondere nelle nuove creature nei nuovi esseri umani il pensiero critico il soffermarsi a dire che cosa dà potere a quest'opinione quali sono i fatti dietro quest'opinione quali sono le argomentazioni che stanno dietro quest'opinione perché se io mi fermo e mi faccio sbattere l'opinione in faccia e penso che questa mi suona bene ma non mi interrogo e la ricondivido come se fosse oro colato io innesco un meccanismo in cui l'opinione più rumorosa l'opinione più simpatico l'opinione più fruibile emergerà in modo esponenziale grazie al meccanismo di social network rispetta alla competenza alla conoscenza al sapere critico che invece dovrebbe essere la cosa più vicina al vero e quella a cui io voglio tendere perché nessuno penso voglia tendere a farsi un'idea sbagliata delle cose poi se uno ci gode a essere per forza dal lato sbagliato della ruota va benissimo è una scelta di vita però tendenzialmente si presume che l'uomo da quando ha iniziato a accendere il fuoco volesse sapere come si accende davvero il fuoco non speriamo che Efesto ci lanci una pepita incandescente una mattina quando si sveglia e fa colazione e ci rivitalizza il fuoco beh abbiamo imparato che c'è il lacciarino usiamo il lacciarino accendiamo il fuoco e quella è la verità poi dopo si declinano altre credenze altre opinioni ma si sa accendere un fuoco ecco quindi il grosso limite la grossa difficoltà che vedo io è il fatto che l'opinionismo sfrenato e l'opinionismo spesso suffragato da veramente poca qualità dietro è semplicemente più facile da divulgare perché tendenzialmente proprio in senso statistico il termine la tendenza è quella a faticare sempre meno utilizzare sempre meno pensiero critico e perdere sempre meno tempo nel capire dove stia la verità è molto più facile parteggiare è molto più facile schierarsi sulla barca del vincitore nei numeri su chi ha più like su chi ha più consenso su chi fa più il simpaticone rispetto a dove sta davvero la verità anche perché molto spesso la verità concettuale la verità scientifica o quantomeno l'approssimazione verità più simile al vero è noiosa non è divertente è scientificamente fredda una cosa è vera e quando è vera perde molto del suo carisma è molto più bella la persona che ti esprime un'opinione dura contrastante che ti dice tutta una merda questo gioco fa schifo quest'altro prodotto è una cagata è molto più facile stare dalla parte di chi schifa perché perché se ti esponi su un giudizio di positività nel giudizio di positività poi deve esserci un riscontro veritiero e se c'è un elemento di dissonanza su quella positività è molto facile che ti si ritorca contro quando spari a zero qualcuno che ti dà ragione lo trovi sempre è statisticamente probabile se da domani metti a dire ah politici tutti corrotti tutti merda tutti così è facile che ci siano tanti che mi dicono bravo è molto più difficile argomentare il perché questa affermazione sia falsa e trovare un consenso che si basa su dati statistici esattamente come nella vita non siamo tutti criminali quindi non siamo tutti in guerra è improbabile che statisticamente all'interno di un collettivo di 3000 persone siano tutti devastardi ma per un motivo se volete statistico e poi un motivo eventualmente riscontrabile da processi condanne tutto quello che volete quindi il problema è che gli assolutismi e le frasi eclatanti e le opinioni cosiddette pesanti che spesso non sono suffragate da nulla non sono avvalorate da niente sono più facilmente appoggiabili più facilmente condivisibili meno faticosamente comprensibili e conseguenzialmente più propagate mentre la ricerca critica richiede fatica per arrivare spesso a una verità che dal punto di vista emozionale e di anche come si può dire anche di senso di appartenenza lascia molto più distaccato lascia molto più freddi lascia molto più indifferenti è meno sensazionale e quindi per tendenza molto noiosa è lì che poi si genera tutta una trasformazione anche del sistema di comunicazione e di divulgazione perché quando chi sta dietro ha e vive facendo questo mestiere capisce come funziona questa tendenza umana è molto più orientato a diffondere fake news fare clickbaiting fare tutta una serie di operazioni su cui sa che può far leva perché il comportamento umano sta andando in quella direzione e questo però innesca un meccanismo per cui quando vai a leggere una notizia dal titolo di sicuro non hai un'idea di cosa c'è scritto nell'articolo perché spesso non c'entra niente molto spesso una notizia che richiederebbe due righe di approfondimento diventa un tema di 15 pagine pieno di cose che confondono soltanto le idee ma valorano lo spirito sensazionalistico e poi molto spesso la qualità critica decade perché che bisogno c'è di un critico con tanta competenza se la folla è disposta a pagare a sostenere ad applaudire una persona che abborraccia sulla base della sua esperienza e magari del suo curriculum basato su un po' di empirismo quindi un mestiere di un vero giornalista bravo che fa inchiesta che fa approfondimento decade di fronte al blogger che fa news hunting chiacchiera il ruolo del politico che fa amministrazione pubblica decade di fronte al politico che non va in Parlamento e non va in Senato e urla dai social il ruolo del Novax perché secondo me fanno male fa decadere il ruolo del virologo esperto che tutta la sua vita l'ha passata a chino su 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 un microscopio a vedere come si muovono come si muovono questi questi virus e tutta una serie di cose a catena che vanno a mio avviso a impoverire il genere umano di quella che era il percorso di ricerca di sapienza che c'è sempre stato dall'epoca classica fino all'illuminismo e poi oltre però non ho una risposta sul come si argina questa deriva fra opinione e critica gli attuali strumenti e l'attuale funzionamento di internet stanno facendo esplodere a macchia d'olio l'opinionismo e stanno mettendo la critica in forte difficoltà e sostanzialmente in un angolo totale cioè di irrilevanza dal punto di vista dell'attenzione e del buon funzionamento di divulgazione e comunicazione e questo è estremamente preoccupante estremamente preoccupante perché quando lasci poi la divulgazione l'informazione nelle mani dell'opinionismo sfrenato della matorialità sfrenata te non hai più un controllo di come la conoscenza si propaga da un popolo a un altro o da una generazione all'altra che è sempre stato il cruccio dell'uomo da quando ha iniziato a scrivere nelle caverne come si caccia il bisonte perché se non c'è tradizione scritta e orale di esperienze di ampliamento della cultura e della comprensione di certi fenomeni della vita c'è un impoverimento cioè questa cosa è black and white non c'è non c'è possibilità che una cosa sia vera e l'altra pure o si va avanti o si va indietro è un confine molto molto stretto e l'opinionismo puro becero che spesso è basato su poco più che empirismo non può portare scientificamente dimostrato che non può portare a un miglioramento della società umana ma può portare a forti contrasti umani perché diventa tifoseria perché diventa noi contro voi perché diventa un costante litigio su chi ha ragione dove però la ragione è distante da entrambi perché la ragione ha bisogno di una ricerca mentre l'opinione assume che la ragione ce l'ha lui l'opinionista assume che la ragione ce l'ha lui l'opinione è automaticamente la convinzione di avere ragione su un argomento altrimenti non è la propria opinione è l'opinione di qualcun altro io direi che ho detto assolutamente tutto quello che devo dire della mia opinione sul tema dell'opinione della critica Fox non so se ci sono considerazioni se nel frattempo la chat si è infiammata di più o di meno allora si sono infiammati ma principalmente per spiegare a Angelo come mettere l'opzione solo audio per quando guarda quando ascolta a questo punto la Q&A da dispositivo pensavo fossero infiammati per il gol di qualcuno di questi tempi stasera non gioca nessuno non gioca nessuno prossima partita è domenica sera noi non siamo in diretta quindi Forza Azzurri perché purtroppo un ometto una venticinquina di anni fa ci ha tolto la gioia di poter urlare un'altra cosa che urlavamo solitamente in certe occasioni quindi Forza Azzurri domenica domenica sera ma si vede il Rosso Flame si vede si vede un po' sbiadito ma si vede stanno intanto arrivando un po' di domande mentre intanto ecco mentre scrivono una considerazione mia a me fa molto ridere quando vedo a volte in televisione ha visto mettono il terzo con il nome e la professione generalmente l'occupazione quando mettono opinionista perché voglio farlo anch'io di lavoro l'opinionista anch'io ho un sacco di opinioni sono tanti anni che è uscito il mestiere dell'opinionista del psicologo d'assalotto tv però è la trash tv cioè è proprio il trash del trash il mestiere è il trash facciamo il trash del trash sbarmello tutto come Barbara D'Urso mi trasformo in Barbara D'Urso e facciamo il trash del trash del trash ti faccio anche la faccina triste ora non lo fai più perché le hanno le hanno messa alla porta povera Barbara non mi fanno fare più le trasmissioni no seriamente mi dispiace almeno così condivideva la rete poi non so se in qualche modo mi dispiace non per snobbismo ma dove abito l'antenna sul palazzo non ha mai funzionato quindi praticamente la televisione più o meno pubblica più o meno gratuita non l'ho vista da quando viva a Lucca quindi non ho la più palida idea riesco a vedere Netflix e Prime Video no io anch'io la televisione il telegiornale e la fiorentina o la nazionale quando gioca la nazionale altrimenti è soltanto il monitor della playstation fondamentalmente una considerazione dai partiamo se no si fa le 33 e 33 si pentolino dice riguardo alla critica sui social media ama spesso citare Mike Tyson che diceva ovviamente social media made you all way too comfortable with disrespected people siete tutti leoni da tastiera perché se me lo dite in faccia vi sfondo esatto tradotto letteralmente vuol dire social media vi hanno reso tutti troppo fiduciosi troppo però su quella di Tyson le citazioni di Tyson sono sono d'accordo con Tyson però l'argomento è un altro lì lì è il leonismo da tastiera cioè il fatto di permettersi di utilizzare un tono che non ti permetteresti mai di utilizzare faccia a faccia ma non per paura fisica ma anche perché magari hai ricevuto un'educazione banalmente quindi di fronte a altre persone in luogo pubblico ti sentiresti osservato giudicato e quindi limiteresti un attimo degli atteggiamenti più da bestia che da essere umano anche per una scelta autoconsapevolezza di essere un primate quindi con un grado evolutivo rispetto che ne so alla capra che scavalca i monti un filino un filino maggiore con tutto il rispetto per le capre a cui voglio tantissimo bene eppure eppure ho visto cose e penso tu le abbia ti sia trovato anche te in situazioni dove il mio pensiero è stato ecco l'anello mancante che cercava Darwin ah penso che cercava la capra scalando il mondo no no l'anello l'anello mancante che cercava Darwin appunto per ma il leonismo da tastiera secondo me è un atteggiamento che diventerà sempre più drammatico e a mio avviso è proprio un fenomeno drammatico perché il leone da tastiera è una persona che a mio avviso vive un incubo incredibile nella sua vita ce lo dico con tutta la compassione del caso non sto scherzando la persona che scarica tutta la sua frustrazione dietro una tastiera è una persona che è primo luogo piena di frustrazioni che ha bisogno di scaricarle sul prossimo e ha bisogno di un prossimo più o meno indefinito e distante da lui perché non ha un equilibrio psicofisico e psicologico proprio nella sua dimensione extra monitor quindi sostanzialmente è una persona che nella vita ha veramente grosse difficoltà e che grazie a grazie diciamo grazie ai social e alla distanza più che la tastiera e il monitor la distanza emotiva fisica dall'altrui che diventa un x qualunque può dare libero sfogo a una repressione che ha dentro e di cui soffre cioè a mio avviso queste persone hanno dei grossi problemi di autoaccettazione dei grossi problemi emotivi da risolvere e li risolvono in modo istintivo sfogando la propria rabbi e la propria repressione sul prossimo che non conoscono perché sul prossimo che conoscono non riescono a fare e probabilmente l'incomprensione con i prossimi che conoscono che gli causa tutto questo senso di frustrazione quindi frustrazione sul lavoro in famiglia nei rapporti amicali nello sport tutte le possibili attività umane quindi in realtà secondo me quella roba lì è una roba che non riguarda l'avere o non avere un'opinione è una roba che riguarda il saperse o non saperse relazionare col resto del mondo e gestire i propri livelli di crescita maturità educazione è un problema ancora più grave ancora più profondo ma perché è un grosso disagio della società e perché dico che peggiorerà perché con il distanziarsi dei rapporti e quindi il fatto che siamo molto più spesso con la testa china su questi affari che a guardare a relazionarci con gli altri ben lungi a me fanno un discorso a boomer io sono per tutta la vita per digitale internet futuro eccetera però è inevitabile che la nostra relazione col prossimo avviene tramite questo filtro qua quindi più avviene tramite questo filtro più queste persone che hanno problemi relazionali in modo normale cioè in un ambiente non filtrato dal digitale nel digitale si trovano a esasperare questi problemi questa cosa qui secondo me richiederebbe veramente un intervento di ordine pubblico in tema di sanità chiesa come sanità proprio asl psicologia trattamenti sanitari quindi semplificando andate a farvi vedere da uno bravo però perché uno non bravo potrebbe non risolvere completamente a me a me a me dispiace poi probabilmente se c'è nella nostra community uno psicologo uno psichiatra che è sicuramente più competente la mia opinione ci può dire la sua però io percepisco in quelle persone un livello di frustrazione magari una psichiatra una psichiatra del marian show uno psicologo per parlare di queste cose qua in una delle prossime puntate del marian show mi sembra mi hai dato un ottimo un ottimo spunto volentieri volentieri volevo dire che però il leonismo da tastiera non solo nei confronti dello sconosciuto perché non so se è capitato anche a te a me è capitato anche personalmente io vabbè sono stato consigliere comunale di Asciano a me no ecco però ecco immagino anche a te ancora di più sono stato consigliere comunale di Asciano e in quel periodo durante una campagna elettorale sui social qualcuno persone del paese un paesino il capoluogo fa 4500 abitanti cioè nel senso siamo tutti mezzi imparentati ci si conosce tutti quello che non mi hanno detto sui social in quel periodo uno in particolare un vecchio amico si andava anche a scuola insieme mi aveva detto di ogni colore proprio ogni cosa o maffese pesanti un giorno va a fare la spesa lo trovo a fare la spesa e mi saluta come se niente fosse cioè come se tutto normale oh quanto tempo non ci si vede guarda e lo guardo tanto tempo non ci si vede però non è tanto che ci siamo sentiti insomma ecco tirai fuori la questione oh ma perché ero nervoso insomma però ecco vorrei capire anche io il meccanismo che scatta nei confronti di questo atteggiamento ti organizzo comunque dicevo sull'altru intendevo non necessariamente la persona che non conosci però la persona che non appartiene al tuo giro abituale la persona con cui ti confronti che può essere motivo di frustrazione quindi il tuo congiunto i tuoi congiunti il tuo datore di lavoro i tuoi colleghi eccetera anche il vecchio amico ma io anch'io mi trovo come te a volte con dei vecchi compagni di università o delle superiori che ci si tira vagonate di testate nel viso tramite social ma non ci puoi fare nulla perché il concetto di distanza oggi è molto relativo cioè nel senso siamo tutti di nuovo interconnessi ma non abbiamo relazioni profonde reali vorrei capire il meccanismo alla base che fa escludere dalla realtà nella mente delle persone quello che succede sui social o quello che uno dice o fa sui social network perché vorrei indagare su questo perché è come se fosse una dimensione extra parallela cioè proprio una cosa a parte non hai l'empatia della reazione cioè se una persona usasse quello stesso livello di espressione la stessa intenzionalità allora distinguiamo un attimo due cose la prima è che secondo me c'è ancora una grossa fetta di persone che non riesce a utilizzare lo strumento scritto per trasmettere correttamente le proprie emozioni quindi magari non ha capito che ci sono delle regole una netiquette con cui si parla e ci si relaziona perché non c'è questa roba qui il linguaggio non verbale vero ma tanto del linguaggio della comunicazione che avviene negli esseri umani avviene non io penso una cosa e te la dico te penso una cosa e me la disci ma avviene per livelli di sintonia cioè io inizio a formulare un pensiero e lo adeguo alle reazioni che percepisco dal mondo esterno quindi la mia mente li recepisce il tuo linguaggio non verbale la tua sensazione di disagio la tua preoccupazione la tua tensione il tuo stupore e percepisce quella della collettività che mi circonda e quindi il mio linguaggio il mio tono il mio registro e la mia intenzionalità si tarano in maniera empatica chi più chi meno a secondi livello l'empatia che ognuno di noi ha sull'altro ma quando sei dietro a uno schermo la conversazione è molto più simile al radiotelegrafo è molto più simile al come si chiama al telegramma cioè io mando un messaggio stop ti mando un messaggio stop e quindi il livello di sintonizzazione empatica non esiste quindi io dico di là non c'ho nessuno c'ho un vetro svuoto tutto e nello svuotare tutto abbatto quei filtri automatici che inneschiamo in una normale conversazione fra persone civili è questo che cambia in una conversazione filtrata dal mezzo digitale l'essere non essere in tempo reale cambia tantissimo comunque organizzo questo Mario show con uno psicologo o uno psichiatra assolutamente mi metto guarda mi sdraio sul divano io esatto ti sdraio e si fa una seduta live ma lei chi glielo fa di queste cose no si fa una seduta psicologica una seduta di analisi live allora proseguiamo con Nick che dice però c'è anche da dire che attualmente soprattutto in argomenti molto caldi non è proprio facile crearsi una propria opinione prendiamo per esempio il covid i primi a ammazzarsi e a scontrarsi sono quelle stesse persone che dovrebbero essere autorità in materia hai ragione Nicola ma esatto cioè siamo d'accordo quindi sul fatto che quando poi tutta la conversazione si sposta su un tavoliere che non è quello della ricerca della cultura della materia del libero confronto fra persone esperte diventa un grande boato sociale diventa un grande casino perché nel peggio della pandemia quello che accadeva è che tutti conversavano allo stesso livello di intensità parlando da preparazioni specifiche in materia totalmente diverse da Burioni a Mentana a l'ultimo l'ultimo dei diplomati del conservatorio musicale che suona benissimo il sax ma di virus non sa nulla e erano tutti a parlare con lo stesso tono con la stessa intensità quindi te che ti vuoi creare un'opinione più formata quindi più vicina alla critica fai fatica perché se tutti se siamo in una stanza presunta universitaria a trattare un tema che richiederebbe il laboratorio e il confronto scientifico e tutti ognuno con i suoi mezzi cerchiamo di spiegare la nostra verità sul tema lo studente che è andato lì per imparare qualcosa e questo virus cosa capisce? Niente per questo il sistema di istruzione è sempre stato una persona parla e tanti ascoltano o un piccolo gruppo di persone si confrontano perché ci deve essere chiarezza sulle competenze e chiarezza sul punto di arrivo della conversazione nel sistema del social network e della comunicazione sociale questa cosa decade e quindi diventa molto più facile sfornare opinioni chip opinioni economiche di bassissimo livello che vanno a generare un sottofondo bestiale per cui non sai più a chi dà retta non riesci nemmeno più a distinguere chi dà retta non riesci a capire se quello è un giornalista scientifico o un giornalista calcistico che si esprime sul covid se quello è un virologo o un anestesista se quello è uno che sta trattando il covid o è un teorico della virologia che ha studiato sui libri 30 anni fa per quello esistono i comitati scientifici per quello esistono lasciate stare quello del governo dico nel mondo dell'apprendimento dell'accademia per quello esistono i ricercatori esistono le pubblicazioni esistono le riviste scientifiche perché sono ambienti dove la confutazione delle teorie dove l'analisi delle ipotesi dell'analisi dei fatti avviene fra pari in modo ordinato organizzato seguendo il metodo scientifico e dopo viene rilasciata la nuova verità fino a prova contraria e quella novità fino a prova contraria deve essere per patto per patto scientifico accettata unanimemente il che non vuol dire che non ci sia ricerca di una nuova verità se no ci saremmo fermati all'idea che la terra era piatta e il sole le girava intorno ma al tempo stesso fin tanto che non viene confutata quella verità quella deve essere la verità universale nel momento in cui diventa un grandissimo concerto dove ognuno si sente in diritto e in dovere di potersi confrontare con chiunque indipendentemente dal suo grado di preparazione tutto questo decade e non solo vengono fuori degli atteggiamenti distorti di protagonismo perché è inevitabile che l'essere umano non sia né perfetto né sempre in buona fede quello che vi ho detto all'inizio non è che se uno è il massimo esperto in televisori automaticamente è anche una brava persona è anche una persona che in certe circostanze non è disposta a approfittarsi delle circostanze per farsi pubblicità per fare soldi per fare pubblicazioni extra per farsi leggere o altro questa cosa bisogna iniziare a capirla il mondo non va in bianco e nero il mondo ha un'infinita scala di grigi fra i virologi ci saranno persone oneste intellettualmente e preparatissime e persone disoneste intellettualmente e preparatissime quindi nel momento in cui decade che sono le più pericolose esatto nel momento in cui decade il patto scientifico il patto del simposio il patto del prima verifichiamo prima usiamo ragion critica e dopo e dopo parliamo e divulghiamo quindi quando nasce prima l'opinione della critica e l'opinione a più peso della critica automaticamente si possono innescare dei meccanismi perversi anche fra coloro che l'argomento lo conoscono cioè essere molto preparati in una cosa non ti rende una brava persona automaticamente essere una brava persona è una cosa che non attiene alla tua preparazione la tua preparazione ti rende solo molto più competente in quello che dici o fai poi quello che dici o fai può essere piegata dato uso e consumo in base alle circostanze che possono essere progressiste o retrograde che possono essere pro sociale o pro individuale eccetera 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 questa cosa mettiamocene la testa perché non so da quando è uscita l'idea che se uno è bravissimo in una cosa allora automaticamente è anche un'ottima persona non è così quindi quando mi dici Nicola eh ma anche i virologi non ci si capiva più nulla è perché anche i virologi hanno fatto un grave passo indietro calandosi nella dimensione social dopodiché alcuni loro magari l'hanno fatto intenzionalmente perché hanno avuto un loro tornaconto nel farlo perché in quel momento avevano bisogno emotivamente di farlo avevano bisogno di riconoscimento avevano frustrazioni personali vattene la pesca oppure perché ognuno di loro dall'alto della sua ragione critica era convinto di essere un po' più nel giusto un po' più vicino a quell'iterazione e l'approssimazione che dicevamo prima degli altri però però Lorenzo Natalini chiede fino a che punto è giusto spingersi nell'esprimere un'opinione negativa ma ben argomentata è giusto dire ad esempio il gioco X fa schifo se si spiegano bene i motivi oppure dire l'editore Y sta facendo solo giochi di M Lorenzo questa domanda è interessante il problema secondo me non è la libertà di opinione è una libertà sacrosanta e è importante che venga mantenuta la libertà di opinione il problema fondamentale è che la libertà di opinione incondizionata e la libertà di opinione soprattutto non tanto incondizionata la libertà di esprimere la propria opinione non di avere una propria opinione in contesti dove sostanzialmente non c'è nessuna forma di moderazione e dove non c'è nessuna forma di confronto paritario rischia di creare una distorsione della realtà ti faccio un esempio pratico se io entrassi in un bar qualunque e il barista mi fa un caffè ok bevo il caffè e il caffè per me che ho bevuto 20.000 caffè nella mia vita ma non sono un sommelier del caffè non sono uno che ha studiato la chimica del caffè la dosatura del caffè le tostature del caffè ho solo bevuto tanti caffè perché ho 38 anni e ho bevuto una media di due caffè al giorno negli ultimi 30 che ne so no 30 no perché ho 8 anni negli ultimi 20 non ho iniziato a berlo presto ma non così presto comunque negli ultimi 20 anch'io nel latte però insomma l'ho bevuto un sacco e quindi mi sento in diritto di dire se il caffè secondo me è buono o non è buono ma le mie papille gustative la mia conoscenza in materia di caffè formano la mia specifica opinione che non è necessariamente vicino al vero è il mio gusto personale applicato alla mia idea di come dovrebbe essere il caffè bevo il caffè e mentre lo sto bevendo lo sputo su tutto il bancone e inizio a urlare boia che merda questo caffè che schifo ma non gli darò mai più soldi a questo barista e me ne vado urlando per la strada innanzitutto quante volte l'hai visto succedere anche nel peggior bar dove fanno un caffè acido mai raramente forse mai io mai personalmente poi chissà e questo già ti dà il peso della differenza fra andare in un gruppo di 20.000 persone a dire quel gioco è una merda e andare in un bar con 20.000 persone a dire questo caffè è una merda già lì viene fatto qualcosa che nella normalità non vedi mai accadere seconda cosa se fai una cosa del genere all'interno di un bar il barista ti risponde ed è titolata a risponderti ti può anche spiegare lì davanti a tutti perché stai giudicando male il suo caffè perché magari hai chiesto una moca super tostata con panna acida lui te l'ha fatta e te non sapevi com'era la panna acida e l'hai bevuta e ti ha fatto schifo e in più avrai il dissenso automatico delle persone di fronte a una reazione che giudicheranno non socialmente accettabili in un social network dove la rappresaglia il modo di fare veemenza invece stuzzica perché le persone vanno lì a sfogare tutta una serie di frustrazioni ma ci godono anche un po' perché sono distanti cioè qualunque cosa succede lì non li sfiorerà nella vita non rischiano la rissa del bar godono nel vedere quello che succede e quello che si con queste persone questo comportamento è incentivato e non solo non c'è nessuna forma di moderazione perché il moderatore del gruppo può nascondersi dietro a un dito e dire ma io non lo faccio il lavoro ma io di qui ma io di là ma siete tanti eccetera eccetera e conseguenzialmente quella sequela di offese insulti per quanto ipoteticamente motivati possono rappresentare per quel barista un danno stratosferico magari totalmente ingiustificato quindi quindi l'assenza di moderazione morale sociale e di comportamento umano e l'assenza di moderazione tecnica e il distanziamento che lo strumento crea anche a livello empatico perché le persone non proveranno empatia per l'azienda X che non conoscono mentre proverebbero empatia per il barista da cui vanno tutte le mattine creano una distorzione gigantesca nel diritto di opinione esternato in modo vehemente dopodiché un'opinione ben argomentata ed educata non solo è legittima è doverosa e ci sta fa parte del gioco il problema è quando l'opinione è magari manipolata è magari tendenziosa è magari basata più sull'antipatia o su pregressi personali che su una ricerca oggettiva di approssimazione verso la verità quindi ti dico per risponderti quanto è accettabile è accettabile nella misura in cui faresti la stessa cosa all'interno del bar davanti al barista e davanti a altre 50-60 persone e non è accettabile in un ambiente dove sai che ti verrà data ragione solo perché la gente vuole divertirsi a vedere il casino e vuole divertirsi a vedere il sangue e vuole divertirsi a vedere la rissa è l'equivalente delle persone che quando due si picchiano filmano anziché chiamare i carabinieri perché poi siamo gli stessi che giudichiamo i due atteggiamenti in queste due misure totalmente diverse quindi quando vedete spesso capita specialmente gruppi gioco a tavolo questi modi di fare esacerbati sto gioco è tradotto una merda sto gioco fa schifo sto gioco di qui e di là non sono comportamenti da applaudire perché se lo facessero nel vostro lavoro se voi foste quel barista se voi siete un insegnante e i genitori parlassero così di voi di fronte a mezzo mondo urlandolo in piazza davanti alla direttrice a tutto l'istituto se voi foste il ristoratore e la gente iniziasse a lanciare i piatti contro il muro dicendo mi ha chiesto poco è un cretino non vi verrebbe da applaudire una cosa del genere quando c'è un lavoro professionale di un'azienda fatto bene o fatto male ci sono dei posti di lavoro in gioco ci sono degli investimenti dei capitali degli interessi delle persone che si sono fatte comunque il mazzo che magari non hanno responsabilità su quello specifico errore e quindi una critica motivata è un conto un'analisi motivata è un conto spalare merda basandosi su alcuni elementi che non necessariamente pregiudicano la qualità del prodotto ma magari indispongono leggermente quel tipo di giocatore ma non tutti gli altri rischia che si inneschi un pregiudizio per cui 999 possibili acquirenti delle mille copie non l'acquistino per quell'uno che è rimasto non soddisfatto da un gioco che non rientrava nelle sue specifiche aspettative e che ha bollato come merda e guardate che questo problema dell'opinione sociale estremizzata della recensione sociale estremizzata ha creato dei danni devastanti nel mondo della ristorazione nel mondo del turismo e la risposta tipica che mi aspetto già in questa chat stasera è eh ma prima c'erano dei ristoranti che ti fregavano eh ma prima sì è vero la disonestà c'è sempre stata da una parte e dall'altra il problema fondamentale è che adesso per un rapporto di simpatia si mette in mano un bazooka a una persona il ristorante che prima ti fregava te non ci andavi più e lo dicevi a tutti i tuoi amici e finiva lì adesso un ristoratore bravissimo rischia che se non ti accontenta sullo sconto perde 1500 clienti perché quello va su TripAdvisor e dice ristorante di merda e non c'è nessuna verifica di come sono andati i fatti non c'è nessun controllo di qualità della vicenda non c'è nessun contraddittorio c'è una posizione estrema applaudita da una massa inconsapevolmente quindi attenzione ad applaudire a certi comportamenti perché questi comportamenti più si diffondono più arrivano vicini a noi e quando poi vengono a toccare la nostra sfera personale è un problema perché poi non si ha gli strumenti per difendersi non si ha gli strumenti per reagire ad un'aggressione sociale fomentata da un gruppo di persone che godono del fatto che ci siano persone disposte a dare della merda al lavoro del prossimo e alle attività del prossimo a mio avviso quando c'è una cosa che non va in un aspetto qualunque si dovrebbe contestare quell'aspetto o comunque contestualizzare la vicenda e poi essere disposti ad avere un contraddittorio che non accade mai perché se io editore cosa che ormai non faccio più vado a rispondere nel gruppo giochi a tavolo anche se ho ragione fatti alla mano o comunque un'approssimazione di ragione molto più vicina a quella del cliente non soddisfatto la folla si ritorce contro perché io porto una verità noiosa una verità che non genera sangue e di là c'è il sangue di là c'è il divertente di là c'è l'offesa c'è l'insulto c'è la rissa c'è la cosa che ci stimola nei lati più borbosi della nostra esistenza quindi bisognerebbe diventare un po' più persone consapevoli e mature e reagire come reagiremo in quel bar di fronte a un maltrattamento ingiustificato del povero barista invece purtroppo sui social per quello che si diceva prima con Guido non accade e si applaude il carnefice anche se non si ha ben chiaro che cosa sia successo anche se non si sanno gli antefatti anche se non si sanno che cosa è accaduto dietro le quinte e spesso la persona che esprime la libera opinione ha molto meno da perdere di una persona che invece fa quello di lavoro e ha tutto da perdere conseguenzialmente se l'opinionista X tira una vagonata di merda addosso a un'azienda l'azienda ha un danno enorme se l'azienda risponde o ha anche ragione e cerca di far valere le sue ipotesi rischia di ottenere merda al cubo ma se per caso avesse ragione l'opinionista sparisce e non ha niente da perdere perché nella vita magari fa il giardiniere non fa quello di mestiere si è divertito una volta a creare un casino o l'ha creato anche in buona fede o in mala fede ma non ha importanza nella vita vive d'altro mentre quell'azienda o quella persona o quel professionista o quel ristoratore o quel cameriere fa quello nella vita quindi non è paragonabile a una violenza fisica o una violenza umana ma una violenza morale fortissima ragazzi questa cosa è una pistola puntata alla tempia di imprese e professionisti seri e non è accettabile e non è accettabile che si possano creare collettività equiparabili a stampa come del resto il codice penale prevede che abbiano questo livello di moderazione inesistente questo livello di contraddittorio inesistente dove non si può fare nulla perché se no la folla in ferocita ti lapida questa cosa a mio avviso non è civilmente accettabile poi siamo i primi a fomentare quei comportamenti siamo i primi a non prendere le distanze a quei comportamenti siamo i primi ad accettare in quel bar che il cliente sputi il caffè ovunque spacchi la tazzina e se ne vada urlando rovesciando le sedie siamo lì a applaudirlo quando ci comportiamo in quel modo lì fatevi una ragione andiamo avanti con Nicola che la mette sul piano culturale ti chiede pensi che sia inversamente proporzionale il rapporto il rapporto tra cultura inteso come conoscenza e opinionismo io penso che una persona estremamente colta non potrebbe mai finire a fare l'opinionista ma allora l'opinionista è un ruolo che si è inventato alla trash tv per descrivere uno che viene lì a dire la sua opinione solo perché è carismatico è un personaggio e lo invitano in un salottino televisivo a dire la sua perché ha un suo seguito e quindi fa audience il ruolo dell'opinionista è l'equivalente di quando striscia la notizia metteva le veline cioè è uno che ha il suo seguito di persone che vanno lì per un motivo che non ha niente a che vedere con l'argomento ma vogliono sentire chi ha da dire avere un'opinione è un fenomeno cioè formarsi tante opinioni su tanti argomenti è un sinonimo di mente orientata alla cultura a mio avviso perché è una mente che va alla ricerca di informazioni che cerca di capire di farsi un'idea di quel che accade non vive passivamente la sua esistenza è il come si esterna l'opinione e come si pretende che questa opinione venga accettata che non va bene cioè il passo che pregiudica l'opinione come buon sintomo di persona vispa mentalmente che è alla ricerca di una verità e l'opinione che non va bene è proprio l'idea della consapevolezza di essere un'opinione di Schrödinger cioè giusta e sbagliata fino a prova contraria la vera persona il socratismo che ti è caro Nicola che teorizza io so di non sapere è una forma di opinione importante cioè io cerco di capire cerco di formulare un'opinione sapendo che la mia opinione potrebbe essere non corretta e quindi devo avere una mente aperta a recepire nuove informazioni e alterare la mia opinione avvicinandomi per approssimazione alla verità su quell'argomento sapendo che non potrò essere esperto in quasi niente nella mia vita forse uno due cose tre quindi avere le opinioni è un sintomo positivo a mio avviso è chi ha un'opinione inamovibile chi è convinto di essere nel giusto di avere una diciamo autorevolezza basandosi sulla sua opinione che diventa tossico non so se ho reso bene questo concetto andiamo avanti con esci il gioco che dice che l'unico possibile argine a suo avviso siamo noi stessi soprattutto sui social abbiamo il potere di non seguire non creare interazione con persone che a nostro avviso non stanno facendo divulgazione ma solo rumore è una cosa che spesso si sottovaluta effettivamente c'è la funzione allora su questa cosa sono d'accordo e non d'accordo ho l'opinione di shredding nel senso che hai assolutamente ragione il meccanismo principale con cui si ottiene attenzione sui social è dividere più casino si fa più attenzione si ottiene e quindi un'arma importante sarebbe il blocco a quest'utente perché meno si dà like dislike commenti anche costruttivi a quel tipo di persona o a quel tipo di contenuto più si frena l'algoritmo che lo renderà meno popolare quindi automaticamente lo si lascia morire però esce il gioco Elisa si chiama Elisa Silvia 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 siete usciti troppi content creator ora poi vi conoscerò tutti alla prossima fiera meglio perché devo associare i nomi alle facce se no messa così sembra una minaccia è Silvia che fa i tutorial velocissimi su tiktok ok ma mi sa ora farò una gaffa clamorosa ci siamo visti a Savona può darsi è probabile perché era presente a Savona non so se vi siete incontrati sì allora ci siamo incontrati ok comunque il ho perso il filo ah sì non basta impedire la la circolazione del rumore sbagliato bisogna anche iniziare a creare la musica giusta perché il rischio fondamentale nel nuovo nel nuovo paradigma di internet è che se tutta la conoscenza e tutta l'informazione sarà assimilata sempre più tramite internet rischiamo di avere l'enciclopedia tre cani scritta da una persona semi-analfabeta non so se mi spiego è molto importante iniziare a dare l'altra versione delle cose in modo tale che chi accederà a internet avrà l'una e l'altra quando io dico ci tengo a che il settore della divulgazione della comunicazione nel gioco da tavolo diventi professionale e ci siano dei professionisti non è che lo dico perché lo ripeto odio gli appassionati odio gli amatori diverso gli amatori fanno il loro lavoro di opinione il professionista eserciterà la sua professione di critica dedicherà il suo lavoro e metterà al suo rischio di impresa al suo rischio professionale le cose che dice avrà un peso ma avrà anche dei rischi in quel che dice cioè rischerà di non mangiare se non sta al patto al patto scientifico al patto del simposio al patto di una ricerca della verità non di un'approssimazione dell'opinione perché se noi deriviamo tutto all'opinione al becerismo all'urlato anche all'opinione buona ma comunque leggera non approfondita regrediamo quindi è importantissimo che avvenga una coltivazione anche di un altro spazio di altri contenuti di voci discordanti da quella roba lì altrimenti tutto quello che ti rimane è quella roba lì o il silenzio da quella roba lì ma una persona che in buona fede si vuol costruire un'opinione ben fatta come fa se c'è solo quel rumore lì e quanto è probabile che seguirà solo quel rumore lì ultima considerazione per stasera è del club della tovaglia che è una riflessione dice interazioni di questo tipo dicono anzi interazioni di questo tipo tossiche violente distruttive sono caratteristiche di un social in particolare un social su cui c'è ancora un'utenza di un certo tipo altri social non risentono per il momento e secondo un'opinione strettamente personale un'esperienza altrettanto personale di questi disagi a mare in cuore mi costa dirlo tanto il diritto all'opinione ad cazzo ma si ha soprattutto su facebook guarda non so se Annie o Elisa non è così vera questa cosa ti spiego al di là del fatto che ogni social ha una sua evoluzione e che ogni social appartiene a uno o più generazioni le generazioni migrano nei social a tempi diversi rispetto alla nascita del social e molto spesso un social viene adottato nei newcomers quindi da generazioni più recenti perché l'atteggiamento umano è un atteggiamento di insediamento voglio dire l'essere umano è nato nomade o seminomade ma oggi le popolazioni nomade o seminomade sono una strettissima minoranza l'essere umano per sua natura vuole stabilire vuole mettere radici e lo fa in tutto lo fa anche nella tecnologia quindi quando approccia a una piattaforma e ci si insedia come fosse una sua casa difficilmente migra verso nuove piattaforme ci mette un bel po' deve diventare una moda una tendenza così forte devono esserci delle attrazioni specifiche mentre il newcomer il ragazzino il giovinetto il bambino non ha ha bisogno di staccarsi dalle generazioni precedenti e andare nello spazio che sente più suo quindi quando mi dici in altre social non accade questo non accade per due motivi il primo è che te porti un contenuto in una piattaforma dove non c'è la community dove quel tipo di contenuto è nato quindi sostanzialmente ti stai allontanando dal bar dove avviene lo sputacchio del caffè e sta andando in un posto dove manco lo bevono il caffè non sanno neanche cos'è il caffè e l'unica bevanda autorizzata è la spuma bionda alla pisana ma il secondo punto è che i social network si sono resi conto che chi crea social network e chi fa del social business la sua attività principale che è molto più spendibile da un punto di vista di advertise pubblicitario un social che ti porta a un'interazione molto più rapida con il social stesso facebook è una piattaforma di concezione estremamente vecchia perché si ispira ai forum si ispira ai news group si ispira a un modo di comunicare internet che era degli anni 90 e i primi 2000 ovvero delle baccheche dove si scrive roba facebook è il più grande forum il più grande vbulletin vbulletin come cavolo si dice mai creato nella storia dell'umanità ma è sempre quella roba lì quando mi dice un tiktok tiktok appartiene alla generazione completamente mediata da immagini suoni e video conseguenzialmente il linguaggio che si ha nella nuova piattaforma è totalmente diverso dal linguaggio su cui è nata e formata una certa comunità di persone e che è arrivata ormai al suo ciclo di vita terminale cioè di cambio generazionale ed è un tipo di linguaggio che si basa su un consumo quasi del tutto non interattivo cioè dette in altre parole chi cazzo le legge i commenti e i video di tiktok cioè li scrivono e si commentano vabbè ma deve essere una roba è molto più facile avere 20.000 cuoricini e 3 scritte che 3 cuoricini e 30.000 scritte cosa che invece accade su tantissimi posti di facebook proprio perché facebook incentiva il confronto verbale tiktok incentiva il consumo frenetico sono due cose totalmente diverse tiktok non vuole che tu perda tempo a fare altro che scorrere i video perché fra un video e l'altro ti metterà sempre più video pubblicitari sempre più pubblicità che subirai passivamente quindi molto più efficace nella testa di chi vuole fare pubblicità e quindi nella testa delle aziende perché non mediata dalla disattenzione della concertazione del litigio della scrittura quindi tiktok diciamo rende esponenziale il meccanismo che sta dietro al fear of missing out al fomo alla sindrome di fomo perché te una volta che hai aperto tiktok non riesci a smettere di swipeare e tiktok non vuole che tu perda tempo a fare altro che tu ti spazientisca a fare altro devi continuare a consumare milioni di minuti di video questo rende la piattaforma più amichevole più flame free più priva di come cavolo si dice priva di battibecchi perché l'interesse è che tu sia in qualche modo lievemente dissociato dalla community e estremamente concentrato nel messaggio visivo che tiktok desidera che porti quindi con un machine learning altissimo sui tuoi usi e consumi sui tuoi abitudini sui tuoi interessi contestualizzato con dei meccanismi pubblicitari che vanno talmente in sintonia da essere il sogno erotico delle pubblicità cinematografiche degli anni 60 e 70 le famose pubblicità occulte è per questo che sembrano ambienti più amichevoli ma c'è una scienza economica dietro anche un po' perversa allora se ti ho distrutto questo sogno il tiktok come nuovo paradiso nuovo magari anche instagram che però ha lo stesso principio di tiktok quindi non incentiva la discussione scritta ma incentiva lo scorrimento dello schermo lo swipe dello schermo lasciare il cuoricino e via comunque siamo arrivati alla fine Nicola ci ha provato con una domanda all'ultimo momento ma è una domanda alla quale Mario ha già risposto pochi minuti fa quindi è inutile rifarla il club della tovaglia dice noi siamo nulla su tiktok era solo una riflessione comunque una riflessione alla quale mi sembra abbia condiviso anche Mario in parte siamo alla fine siamo alla fine a scanso di equivoci la penso come loro cioè più ti distacchi dai mezzi di vecchio stile meno senti questo incarognimento ma lo senti soprattutto per il cambio generazionale perché vai in un posto dove quella community non c'è dove quel modo di pensare non c'è perché non c'è quel pensiero cioè non c'è l'oggetto di quel pensiero se già vai in altri ambienti c'è una cagnara simile se vi andate a vedere diciamo la tossicità dell'ambiente su tiktok per asturdo è nata sul mondo della gioielleria ora magari questa cosa qui non lo sa non ci ha fatto caso nessuno ma per un lungo periodo di tempo uno dei top trend di tiktok era l'esibizione della ricchezza individuale del tiktok influencer del video influencer che non ha nulla a che vedere con l'influencer di cui abbiamo parlato in altri contesti ovvero del content creator che acquisisce lo status di influencer ma di persone che esibivano e diventavano divertenti nel loro modo di esibire al punto di avere grossi seguiti che passavano giornate a sfoggiare in micro video il loro gioiellame i loro possedimenti in oro facendo vedere con il il detector come cacchio si chiama l'affare per vedere i metalli preziosi e dicendo la parola real quindi facevano real 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 a cose di qualunque tipo e c'erano i tiktok dei gioiellieri incazzati dicendo che non era quello il modo giusto di vedere se un monile ha un valore economico quindi essendosi creata una forte attenzione sul consumo di beni di lusso all'interno della piattaforma le aziende che trattano e commercializzano i beni di lusso si sono sentite in dovere di contestare alcuni atteggiamenti alcuni sistemi di valutazione eccetera eccetera innescando un flame anche piuttosto pesante a riguardo quindi non è che lì non ci succedano queste cose ma avvengono con delle modalità molto diverse a quelle di facebook dove invece l'aggressione verbale è ancora il trend topic che è proprio l'arma principe dello strumento ma visto che siamo in chiusura tranquillizziamo tutti e diventerà tossico anche tiktok nulla può sfuggire alla nube tossica portata dal genere umano quindi fatevene una ragione godetevi la finchettura ci vuole un cambiamento umano ci vuole un cambiamento umano ci vuole che smettiamo ci vuole che smettiamo quando in autostrada c'è un incidente di rialentare e girarci Mario io ci credevo io ci credevo specialmente l'anno scorso quando circa 14 16 mesi fa urlavamo tutti dalle finestre cantavamo dalle finestre ne usciremo migliori e ora che stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel posso dire con ragionevole certezza che non ne siamo usciti migliori anzi di conseguenza se neanche questo è riuscito a invertire il trend del genere umano quello che potrebbe invertirlo sarebbe troppo catastrofico e non lo voglio vedere quindi mi rassegno a così farò parte ne farò parte in qualcosa siamo migliorati abbiamo tutti imparato a usare una webcam sì 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 in effetti in effetti in effetti sì in effetti sì non tutti perché ci sono state poi delle cose che abbiamo visto di persone hanno lasciato accesa la webcam quanto non avrebbero dovuto cose che tutti avremmo voluto non vedere ma proseguiamo proseguiamo anzi terminiamo terminiamo per stasera perché siamo andati lunghissimi tra l'altro e ricordiamo i prossimi appuntamenti domani sera alle 21.30 sempre qui sul canale Twitch di DungeonCast TV c'è il Dungeon Quiz e chi non ci sarà peggio per lui o per lei peggio per voi se non ci siete domani sera mi raccomando 21.30 venite a giocare con me a rispondere le mie domande peggio per essi dai diciamo del day sì sarò piuttosto vabbè non vi spoilerò niente non vi spoilerò niente sabato non spoilerò niente non spoilerò niente sabato alle 13 invece sul canale YouTube di DungeonCast TV la top of the board come sempre 10 migliori giochi della settimana settimana prossima poi sarà l'ultima settimana prima delle meritate ferie quindi ci sarà martedì il Mario & Show con Andrea Nanni del Dungeon Store di Bologna per parlare gioca in casa e domani sì vi facciamo si parla della vita di un negoziante esatto la vita di un negoziante della transizione che ha avuto dal Room 342 a Dungeon Store e i primi mesi da Dungeon Store mercoledì si va avanti con Tainted Grail alle 12 giovedì prossimo ultima Q&A prima delle ferie torneremo poi con la Q&A ad agosto con importanti novità perché la Q&A non sarà più in orario serale ma si trasferirà in un orario diurno almeno in test per un po' poi vedremo 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 quindi tutto questo poi ad agosto ma seguendoci ne saprete sempre soprattutto ad agosto pare che Guido traslochi sì perché per colpa vostra per colpa di Guido muovete trasloca hashtag trend twitter e tutto quello che avete fatto praticamente io farò un trasloco in questo freschissimo mese di luglio vedete la gioia e l'entusiasmo che ho è giusto che tu soffra così avevi a muoverti prima avevi a muoverti prima dovevo trovare un posto anche perché l'estate a Lucca inizia tipo oggi che è 49 gradi all'ombra e finisce domani spero no e finisce il giorno prima che inizia Luca Comics ecco arrivano i monzoni come tutti sanno e vabbè comunque quindi ci sarà un rallentamento delle produzioni perché Mario va in feria quindi non ci saranno il Mario in Show e la Q&A per un paio di settimane ma gli altri appuntamenti rimangono invariati comunque quindi queste sono diciamo un po' di spoiler per quello che succederà nelle prossime settimane detto questo visto che siamo andati lunghissimi Mario devi aggiungere altro? no non devo aggiungere altro direi che ci vediamo domani cioè ci sentiamo perché vi guardo ti guardo al quizone serale e poi come sempre prossima settimana buonanotte a tutti e alla prossima ci vediamo con me domani sera ciao 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 Sous-titrage ST' 501